Oggi abbiamo fatto il punto della campagna vaccinale del 2018 e l'analisi dei dati esaminati assieme ai direttori generali, assieme all'assessore, ma assieme al giornalista di Zanitas ci ha permesso di verificare eventuali criticità che ci sono state per l'anno precedente. Inoltre l'idea della nuova campagna vaccinale, a brevissima uscirà la circolare ministeriale, è stato spunto per programmare una serie di attività proprio per migliorare i dati vaccinali. L'idea è quella del maggiore coinvolgimento con i medici di medicina generale, l'idea è quella di implementare gli igienisti a disposizione all'interno delle strutture vaccinali delle ASP, ma soprattutto di comunicare. Laddove si parla di comunicazione, una comunicazione non solo di tipo sanitario che facciamo noi, ma quello che abbiamo discusso col giornalista presente lì, l'invito e a coloro che si occupano di carta stampata e anche di televisione, è la giusta comunicazione. Giusta comunicazione perché spesso i no-vax o dei casi avversi provocano nel cittadino la paura che il vaccino determini malattie. Quindi quello che mi sento di dire è l'analisi del dato, la programmazione che abbiamo pensato di portare avanti per il prossimo anno è l'idea della più corretta comunicazione, spero proprio che ci permettono di aumentare il dato vaccinale non ad una cifra ma a due cifre.